Musica Bellissima attenzione ragazzi siamo tornati finalmente su Detroit Become Human Prima di iniziare a questo video semplicemente vi chiedo di iscrivervi e attivare la campanellina Ovviamente lasciando mi piace Detto questo possiamo anche continuare il nostro gioco Non ci sei stata per due settimane c'è un casino Ah quindi già c'è stata Devi pulire casa, fare le lavatrici, cucinare e occuparti della... Porca puttana dove cazzo è finita quella mocciosa adesso? E la madonna Alice Padre dell'anno Alice Ah eccoti qui Lei Alice, occupati di lei Compiti, bagno, tutte quelle cazzate Ah ma che carina Capito? Sì Todd Comincia a sistemare qui poi vai di sopra Ah questo? Compiti urgenti, raccogli la spazio 2, accendi la spiavolve e controlla il resto Dove la spazzatura? Ok Ah poi lui Ci può Bene TV accesa Ma dai ma che figata No ma veramente Cioè lui non poteva fare qualcosa Oh che belle cose Aspetta cos'è? Aspetta 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 Cos'è qua? Va bene Andiamo a buttare l'immondizio Miiii quanta roba No aspetta Che figata è però? Vai Via Oh che bello Cosa? Riferisce al toto che cosa? Perché si sta nascondendo la bambina? Ok ecco queste cose che dovevi fare Lava e pia Ah ok Scanziosa Ma che figata Cos'è? Il vostro mini non funziona Bene Ma che figata Cioè quindi se non funziona qualcosa Gli androidi Sanno che cosa fare Beh lascio qua in talca Ciao bimba Dica Uno Nulla Cara Si Todd Portami una birra gelata Ok portiamo la birra Subito Davvero e poi si la metola perché ingrassano Tieni sta birra Metti già un birra qua E hanno terra Aspetta cosa? C'hanno terra? Pulito Ah ok Beh qua c'è l'altro a fare Uh aspetta si può uscire Verso il giardino vai Voglio vedere il giardino Beh è un piccolo giardino dai E dove va? Stiamo volendo tutto ciò Prendi? Uno per uno Dai raccogliamoli tutti Beh poi Todd potrebbe fare qualcosa Mi sta stuccando questa bambina Oggi non vai a scuola Oggi non vai a scuola? Passa il mutismo selettivo Ti piace giocare qui? Vabbè chita c'è la consente giusto? Vai Facciamo una patrice Ok Metti giù E prendi Blue wish Aspetta aspetta Blue Blue flash? Noi abbiamo dash Prendi Perché? Perché così? Ah c'è Toditio, Tilium, Tolude Vabbè Non dovresti toccare la mia roba Mi rende nervoso Sì dovevo fare la patrice Insomma Non ficcare il naso nelle mie cose Se non vuoi farmi incazzare Puoi farmi incazzare? No Todd Io ti sto anche facendo la lavatrice Di clan Di un figlio di una grandissima polpa Drogata per caccia No penso che qua sia Ma io voglio vedere che cosa sta vedendo lei Dove è la spiega povere? Vuoi leggere gli articoli scoperti Nella sezione extra? Ma che figata No ma che figata è? Avrei anche finito qui Passo di sopra Fai quello che devi fare Ma non rompe Delicatissime No non ci posso passare davanti Dai Chi è che suona la guitarra? Scusa Ti fai il letto Sistema di sordi Aria alla stanza Ma se tipo mi mettesse a suonare Sai che figo Che belli Di scrivere Chiaramente Aspetta cos'era? Cos'è? Contiene Tia Tina Nina No 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 capito Vabbè Bello una pistola Hai sbloccato un dialogo o un'azione spesso utile? Eh Ah collegamento alla telepistola Lo voglio fare pure io però Che figata No lo voglio fare pure io Dai preparare E facciamoci il letto dai Ah ma c'è già fatto Prendo la patatina E me la mangio Ventila Ventila Vai Un pochino d'aria Sistema di sordi Eh Manca Questi sono i documenti di cara Ti pareva Ti pareva che cadeva qualcosa? Guarda Il K500 Vabbè Praticamente ho fatto tutto Levati Ho capito Che ho un pochino di delicatezza Io non lo vorrei pulire Però ok Ok Quanti sciampi C'è pavimento Con quale scopa Dai ci possiamo vedere pure da specchio Madonna che mini scopa Con quella cosa piccoli Wow Non so che l'ha fatto fuori tutto quanto In Boh Cinque secondi eppure Con quella scopetta Però L'ha fatto Ci vogliono due minuti D'accordo Alice Ho capito Ma non ti caccare così tanto sotto Sono Una specie di Alice Nel paese delle Nel paese delle meraviglie Certo Timidina eh Cos'è? Scala del tesoro? Tipo Vediamo che cosa è che devo pulire Letto ovviamente Prepara Ti piace il mio collettore robot eh? Androide Androide Vabbè Stomps Meglio così Dai dimmi che cosa hai Amichevole So che vivevo qui ma non ne ho più memoria Anche così Magari ti va di aiutarmi a ricordare Con qualche consiglio Quello che vuoi Tuo padre dice che hai scelto tu il mio nome Cara È bello Come l'hai scelto? Sei tranquilla Non ti faccio paura Parlami un po' di te Cosa ti piace Quali posti ami I tuoi piatti preferiti Mi aiuterebbe molto Oh è uscita Non so che cosa mi è andata Ma sono felice Buona chiave Ah ok Bellissimo Chiedi a tolto nuove istruzioni Ma col cazzo io apro questa roba Questa penso No Lei è la madre Lei è cara Oh Ora si Ok Diciamo che adesso Non vedremo più tolto Come abbiamo visto sempre Che fai? Sto giocando Stai giocando Qualche problema? So che pensi Pensi che tuo padre sia un delinquente? Io sì Un fallito del cazzo Non trovo un lavoro Non si occupa della famiglia Non credi che ci abbia provato A far funzionare le cose? Ma nonostante tutto Arriva sempre qualcuno Che manda tutto a puttane So cosa pensi di me Mi odi Mi odi Non è vero Adesso è come dovresti darti Una pochettata armata Dillo Dillo che mi odi Anche molto Dio Che sto facendo Scusami tesoro Scusa Mi dispiace Ti voglio bene Lo sai è vero Sai che ti voglio bene Beh ragazzi Se vi è piaciuto questo video Lasciate un mi piace Commentate se volete Commentare Condividete Canale, Instagram, Twitter, Instagram Tutto in descrizione Iscrivetevi E attivate la campanella Per non perdere nessun video E noi ci vediamo nel prossimo capitolo Bellissimo Per non perdere nessun video 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 Grazie a tutti.